Buongiorno a tutti, siamo qui oggi a Palazzo Giustiniani a Roma in occasione di un evento che mira a mantenere alta l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni e delle violenze nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Ampas partecipa per rappresentare il mondo del volontariato. Il volontariato è qui per oggi denunciare il fenomeno e dall'altra parte per proporsi come elemento attivo e in meccanismo sussidiario alle istituzioni, alle aziende del sistema sanitario per venire incontro a quella che ci auguriamo sia a un certo punto un fenomeno in controtendenza rispetto a quello che sta avvenendo, ovvero la riduzione di queste terribili aggressioni. Presenteremo oggi anche la testimonianza di un nostro operatore che recentemente si è trovato coinvolto da giovane volontario proprio su un servizio in una terribile aggressione a testimonianza di quello che davvero è il fenomeno e di quanto questo fenomeno rappresenti oggi un elemento di grandissima criticità.